Sembra davvero alle spalle per Cortona l'esperienza del Tuscan Sun Festival, traslocato nel frattempo a Firenze. Il cambiamento è partito e sembra davvero non offrire segni di rimpianto. Il Cortona Mix Festival, organizzato dal Comune con la Fondazione Feltrinelli, anima le strade piene di storie e tradizioni e si susseguono gli eventi di spettacolo, arte e intrattenimento. Dopo l'esordio con Luca Zingaretti, oggi è stata la volta di grandi nomi del panorama culturale femminile. da Marcella Serrano e Leonora Bagnato e poi ancora Erri De Luca, Emir Custurizza, Stefano Bollani e molti altri. È una grande soddisfazione per noi perché per la prima volta il Comune di Cortona è non solo fruitore di un grande evento culturale ma è a pieno titolo uno degli organizzatori principali. Insieme alla casa editrice Feltrinelli siamo i membri fondatori di un movimento peraltro vastissimo che poi fra sponsor, fra collaboratori naturalmente comporta tutta una serie di associazioni e di elementi particolarmente importanti ma certo per noi resta una grande prova e una grande avventura. Volevamo organizzare qualcosa più aperto a tutta la popolazione e agli ospiti di Cortona. Il Comune ci ha dato questa opportunità, abbiamo lavorato benissimo insieme e per il momento siamo felicissimi di come è venuto e di come si è sviluppato questo programma. Noi ci aspettiamo di riuscire a portare la cultura in tutti i suoi aspetti quindi da gli elementi più alti fino a una cultura più popolare fino al vino che è cultura a contatto diretto e immediato con le persone. Grazie.